Il giorno del mese, dobbiamo andare a rifare l'extension alle ciglia e le unghie. Let's go! Sperando che non piova di nuovo. Ho cominciato a piovere. Allora, ho fatto una cazzata perché ho preso appuntamento per le unghie troppo presto, quindi sono tornata a casa e tra tre minuti devo uscire di nuovo per andare a rifare appunto le mani. Sono in delle condizioni agghiaccianti, questa qui a metà svalto e metà no. Horror. Andiamo. Dovete sapere che il mio gift di pleasure quando faccio le unghie è ascoltare qualche puntata di un podcast. È proprio una cosa che mi rilassa tantissimo, quindi devo trovare qualcosa da trovare. Mi stavo dimenticando la carta per i punti qua. Tesserina, fedeltà. Ora possiamo andare. Ed eccole qui, finite. Ho scelto questo rosino. Belline. Sono tornata a casa, ho preparato anche la mia tisanina allo zenzero. Restauro terminato. Un bacio, ciao ciao! Ciao!